Ups a tutti, miei cari upsini e upsine, come, come, come state? Guardate, io spero benissimo, oggi sono qui per un nuovo video, stavolta utilizzando il Tascam, visto che è veramente un sacco di tempo che non lo utilizzo, per fare un video dove ti massaggerò la testa. Un po' con le mani, un po' con il pennello, poi farò anche un po' di mouth sounds, insomma, un po' di cosette. Quindi, senza dire altro, indossa subito un paio di cuffie auricolari e stenditi sul tuo letto, va bene? Perfetto, perché voglio proprio che ti concentri su di me e su quello che farò. Spero riusciate anche a vedermi bene, a sentirmi bene, perché sto avendo un pochino di problemini, ma ci siamo. Brillate. Grazie. Grazie. Il head message, brain scratching, così. Sono carini. Proviamo un po' col pennello. Relassati, relaassati, relaassati. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Accogli il sonno che piano piano sta arrivando. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Ho anche portato una cosa che si è un po' sciolta ma io l'ho portata. Ovvero un lecca lecca che però appunto si è un po' deformato. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Poisson perffocice. A direi. no la posso dai riconcentriamoci sul massaggiarti la testa il 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 Grazie a tutti. Rilassati, 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 chiudi gli occhi mi raccomando. Grazie a tutti. Riprendo il pennello. Spero che questi massaggi al testo possano riuscire a liberarti dai pensieri per farti addormentare. Rilassati, rilassati, rilassati. Rilassati, 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 rilassati. Ancora un'ultima volta con le mani. Rilassati, rilassati, rilassati. Scusate se mi vedete tanto serio ma sono un sacco concentrato. Rilassati, rilassati. Rilassati, rilassati. Rilassati, rilassati. Rilassati, rilassati. Rilassati, rilassati. Grazie a tutti. Adoro toccare questa spugnetta perché è proprio morbida, la dovrei prendere anche per il bluietti mi sa, adesso spero che piano piano ci dobbiamo avvicinare al momento in cui ti do la buonanotte. Quindi dico cucù, adesso tocca a te, iscriviti al canale se sei nuovo, non l'hai ancora fatto, per andare a fare parte di questa community su YouTube. Mi farebbe molto molto piacere se ti unissi, anche tu. Poi lascia un like sotto al video, un bel commento se hai un po' di tempo. Il video di oggi finisce qui. Se però tu vuoi restare ancora con me, io ti lascio il mio video precedente, una mia playlist e il tasto per andare sul mio canale e vedere tutti i video, tutti i shorts che vuoi. Così da non perderti quelli precedenti se non li hai visti. Io ti mando un grande bacio e buonanotte. 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 Buonanotte.